allora buonasera abbiamo preso questa sera il coraggio di acquistare questa cosa alquanto bizzarra e inusuale che nessuno di solito prende compra di cosa stiamo parlando oddio filetto o fish filetto o fish quindi filetto o pesce abbiamo preso il coraggio è bella la scatola è vera è azzurra abbiamo scelto di non dietro c'è anche un pupazzino vabbè abbiamo deciso di non prendere con la salsa perché a me fa quanto cacare oddio santo santo cielo a me fa un po impressione questa cosa sembra merluzzo o cazzo è una cosa un po inusuale prendiamo coraggio dividi la metà no no c'ho mani no fallo te inquadra incriminato comunque la scatolina il panino è liscio praticamente per chi non vuole mangiare sai la carne quelle cose preferisce il pesciolotto e no c'ho paura chiara ti prego assaggialo prima tu perché sto male insieme no 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 mi viene l'ansia dall prima voglio essere sicuro che sia commestibile ti prego dai dimmi tu cosa ne pensi al primo morso voglio capire cosa ne pensi di questa cosa che ha completamente inusuale Non so di un cazzo, senti il panino, ho capito, ma il pesce non si sente, non si sente, vabbè ma sembra tipo il bastoncino Fingus, no ma io non lo sento, è un panino strano, è lucido o liscio? Pensavo peggio, anche io, l'abbiamo andato insieme, quindi ok, delicato, leggero, non pesante, forse la salsa dava quel tocco in più ma io non l'ho voluta, che voto gli diamo a questo panino per ora? Un sette ci sta, quindi non è così terribile come si dice? Prossime prove ragazzi, iscriveteci sotto che cosa dobbiamo provare e niente, ci vedremo in altri video Ha un vetro gusto un po' bizzarro, tipo le dische, non senti il gusto delle dische? E' dolce sto panino, è dolce, ma per chiudere in bellezza ci fu una sigaretta che schifezza, la porta sulla cattiva strada ragazza, prima con i filetto fish e poi andate in ottopedia che apre tra poco C'hai due spicci? Fufu!